Fino al 2 giugno presso l'archivio di Stato di Torino è allestita la mostra Storie di archivi, storie di uomini. Inaugurata dal vicepresidente del consiglio regionale, la mostra illustra le vicende che durante la seconda guerra mondiale hanno visto protagonisti gli uomini e le donne che lavoravano nell'ex ospedale San Luigi, dal 1925 sede delle sezioni riunite dell'archivio di Stato di Torino.